ciao oggi faremo un video bellissimo faremo il doppio carpio indietro stoppato sapete che la regina di questa sfida è debora giusto ok vediamo se oggi riconfermerà o perderà lo scettro ok fa la fa la gara ovviamente chi è in grado di fare doppio carpio è rosita molto presto sarai pronta anche te vai andiamo chi ne stoppa tre vince niente ma va bene tre o facciamo uno perché va bene tre dai michi peccato state facendo giro di prova o iniziate la gara allora provate a fare l'arrivo dai quasi sapete che se fate lo stacco giusto stoppate l'arrivo emma più veloci una dopo l'altra quasi staccate dritte mi dite secondo voi chi vincerà dai la debora secondo te secondo te debò quasi quasi emma quasi non arriva le gambe tese piega bene le gambe eh bacino lascialo sopra i piedi emma non arriva le gambe tese piega bene le gambe eh bacino lascialo sopra i piedi emma cercano le gambe tese piega bene le gambe tese piega bene le gambe tese piega bene le gambe tese bisogna capire bene la dosare la spinta e la velocità di rotazione e lo stacco più dritto possibile brava dai che c'eri eh dritte le spalle non chiuderti in avanti brava dai brava dai brava dai brava dai brava dai quasi ci stiamo arrivando però è letizia dai lo stacco più dritto che puoi brava lo stacco più bello di tutte piega le gambe all'arrivo dopo dai dai emma concentrati stop no zadi niente si va bene facciamo chi lo stop per primo esatto pensato la stessa cosa devo stop per primo esatto debora è uno ah ma ha stoppato noi no ah ma è messo giù già allora niente non lo so perché da video non vedo bene oh emma letizia e mira brava dai emma stoppa concentriamoci tutti sull'emma deve stoppare vediamo se riesce no non vi siete concentrati della verità perché sennò avreste perso eh jadi Debo Stappi o no? Dai Niente Emma Grande Emma Finiamo il giro Dai Letty Letty stop No Emina Sei giusto Allora vince questa sfida Emma Ciao 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 Ciao